In questi giorni è venuto a mancare Carl Weathers, attori che avevamo apprezzato nella saga di Rocky e che aveva preso parte ai primi quattro film della saga di Rocky nel ruolo di Apollo Creed. L'attore si è spento nel sonno e ha lasciato scioccati tantissimi appassionati, cresciuti con i film di Rocky tra gli anni 70 e 80. Ma come ha reagito Sylvester Stallone alla notizia della morte di Carl Weathers? Beh, è stato un trauma anche per Stallone, anche perché i due sono letteralmente cresciuti insieme come attori. Pensate che Carl Weathers non faceva recitazione, ma giocava a football e venne poi scelto per il ruolo di Apollo Creed, per la sua stazza fisica e i suoi lineamenti e il suo modo di fare un po' simpatico, ironico, ma anche molto determinato. Indimenticabili gli allenamenti tra Rocky e Apollo e diciamo che è stato anche il perno della vita di Rocky e colui che gli ha permesso di ricominciare anche dopo la morte di Mickey, il suo primo allenatore sul ring e la morte di Apollo, del personaggio di Apollo Creed, nel quarto film della saga di Rocky è ricordata da tutti come una delle scene più traumatiche, anche perché ce lo ricordiamo, Ivan Drago che mette al tappeto Apollo Creed in un incontro, in un'esibizione e allegoria della eterna diatriba tra Stati Uniti e Unione Sovietica e Rocky aveva detto ad Apollo sei troppo vecchio, non ti conviene non farlo questo incontro e alla fine Apollo muore. Quello è stato anche un po' un punto di rottura nella vita di Rocky anche perché da quel momento è stato diverso il personaggio interpretato da Sylvester Stallone nei film successivi al quarto Rocky, ma andiamo a vedere cosa ha detto Sylvester Stallone quando ha preso della notizia della scomparsa di Carl Weathers. In un video pubblicato sui social l'attore ha detto oggi è un giorno incredibilmente triste per me, Carl Weathers è stato parte integrante della mia vita e questo dice tutto al riguardo, per me ha un'importanza incredibile perché quando ho entrato in quella stanza e l'ho visto per la prima volta, ho percepito la sua grandezza, ma non mi rendevo conto di quanto fosse grande non avrei mai potuto fare senza di lui quello che abbiamo fatto con Rocky è stato assolutamente fantastico, la sua voce, la sua stazza, la sua potenza, la sua capacità atletica ma soprattutto il suo cuore, la sua anima. Resta forte e continua a colpire, si conclude così il video pubblicato da Sylvester Stallone con le lacrime agli occhi dopo la notizia della scomparsa di Carl Weathers ma come è morto l'attore? Secondo l'ultimo comunicato emanato dalla famiglia, dicevamo l'attore si è spento nel sonno nella sua casa a 76 anni Io vi consiglio di iscrivervi al nostro canale YouTube c'è a creazione, continuate a seguirci, attivate la campanellina per restare aggiornati su tutti i nuovi video che pubblichiamo ogni giorno seguiteci su Facebook e YouTube e ditemi qual è il vostro più bel ricordo della saga di Rocky e vi ricordo che ho fatto anche un video precedente in cui raccontavo come è stato girato Rocky e tutte le vicissitudini che hanno portato il film a vincere l'Oscar come miglior film quando nessuno se lo aspettava Al prossimo video!